Secondo l'aggiornamento dell'Aspenissena del 3 agosto 2022 relativa alle 24 ore precedenti in provincia ci sono 154 nuovi pazienti positivi al SARS-CoV-2. Sarebbero tutti in isolamento domiciliare per l'esattezza 41 pazienti di Gela, 34 di Caltanissetta, 13 di Niscemi, 12 di San Cataldo, 10 di Butera, 10 di Riesi, 10 di Sommatino, 7 di Sera di Falco, 6 di Mazzarino, 3 di Marianopoli, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Sutera, 2 di Villalba, 1 di Mussomeli e 1 di Resuttano, 3 i ricoveri in degenza ordinaria, un paziente di Riesi, 1 di Gela e 1 da fuori provincia, mentre due le dimissioni sempre dall'adegenza ordinaria, un paziente di Sera di Falco e 1 di Gela. Si registra anche un decesso di un paziente di Niscemi positivo al SARS-CoV-2. Guariti dal Covid-19 60 pazienti di Gela, 44 di Caltanissetta, 31 di Niscemi, 4 di Mazzarino, 4 di Mussomeli, 4 di San Cataldo, 3 di Sommatino, 2 di Delia, 2 di Sutera, 2 di Vallelunga Pratameno, 1 di Milena, 1 di Riesi, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Sera di Falco. In tutta Italia invece l'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente è pari a 45.621 casi, di cui 2.957 in Sicilia, stando al bollettino quotidiano scaricabile dal sito tematico del Ministero della Salute dedicato al Covid-19. Grazie a tutti.